Il test Legio Alert di IDEX rileva la legionella pneumofila nei campioni d'acqua in 7 giorni e senza alcuna conferma. Legio Alert è disponibile in un formato da 100 millilitri e deve essere usato con il sistema Quanti-Tray Legio Alert per la quantificazione. Il Quanti-Tray Legio Alert è una piastra monouso da 96 pozzetti che fornisce conte fino a 2272 per campione da 100 millilitri senza diluizioni. A breve faremo una dimostrazione su come preparare dei campioni d'acqua non potabile utilizzando il test Legio Alert. Poi mostreremo come effettuare un'analisi di quantificazione con il sistema Quanti-Tray Legio Alert. Per un campione d'acqua non potabile da 1 millilitro occorreranno il reagente Legio Alert, un contenitore da 100 millilitri sterile e trasparente, il kit di pretrattamento Legio Alert, un timer da 1 minuto, una provetta sterile e del diluente sterile. Aprire la confezione del reagente e versare la polvere in 100 millilitri di diluente sterile. Chiudere il contenitore e agitare fino a sciogliere il contenuto. L'acqua potrebbe rimanere torbida. Mettere il contenitore da parte. Ricostituire il pretrattamento Legio Alert aggiungendo 100 millilitri d'acqua sterile deionizzata al contenitore e agitare fino al completo scioglimento. Annotare la data di preparazione sul flacone. Per maggiori informazioni, fare riferimento al foglio illustrativo del pretrattamento Legio Alert. Aggiungere 2 millilitri di pretrattamento Legio Alert ricostituito a una provetta sterile. Poi, 2 millilitri di campione d'acqua non potabile alla stessa provetta. Avviare il timer da 1 minuto e miscelare per bene il contenuto. Miscelare di nuovo prima che il minuto sia passato. Raggiunto il minuto, trasferire immediatamente 2 millilitri del campione trattato nel contenitore con il reagente Legio Alert sciolto. Chiudere il contenitore e capovolgere per miscelare il campione con il reagente. Ora, il campione d'acqua non potabile è pronto per essere quantificato. Ora, effettuiamo una dimostrazione su come usare il test Legio Alert con il sistema Quantitray Legio Alert per stabilire il numero di legionella pneumofila in un campione d'acqua non potabile. Per la quantificazione occorreranno un incubatore, una piastra a pozzetti Quantitray Legio Alert, un inserto in gomma Quantitray Legio Alert, un sealer Quantitray Sealer Plus e la tabella del numero più probabile fornita oppure il programma Autometid MPN Generator di IDEX reperibile su IDEX.com. Accendere il sealer e attendere che la spia verde appaia sul display. Il sealer ha ora raggiunto la giusta temperatura di funzionamento. Per etichettare la piastra a pozzetti Quantitray Legio Alert, usare solo un pennarello indelebile. Le etichette adesive potrebbero aderire al rullo del sealer e le penne potrebbero perforare la carta. Afferrare l'estremità della piastra con il lato dei pozzetti rivolto verso il palmo della mano. Piegare ad arco la piastra spingendone la sommità verso l'interno con l'altra mano. Aprire la piastra allontanandone il retro dal lato dei pozzetti. Evitare di toccare il suo interno. Versare assetticamente la miscela all'interno della piastra. Picchiettare per rimuovere le bolle d'aria. Posizionarle immediatamente sull'inserto in gomma, assicurandosi che ogni pozzetto combaci con il foro corrispondente. Spingere quindi l'inserto con la piastra nel sealer fino a che l'apparecchio non la ferri e la tiri nella feritoia. Se si desidera annullare l'operazione, tenere premuto il pulsante d'inversione. Non annullare l'operazione se l'inserto in gomma si trova completamente all'interno del sealer. Il sealer distribuisce il campione nei pozzetti quanti 3 Legiolert, li sigilla ed espelle parzialmente la piastra sigillata. Rimuovere l'inserto in gomma e la piastra dal sealer. Incubare la piastra sigillata con il lato di carta rivolto verso il basso per 7 giorni a 37 gradi centigradi, con più o meno mezzo grado di differenza. Per impedire che la piastra si asciughi, umidificare l'incubatore. Per impilare le piastre, alternarne la direzione, così che i pozzetti grandi siano posti sopra i pozzetti piccoli. Dopo l'incubazione, per individuare un pozzetto positivo, identificare qualsiasi colorazione marrone e o torbidità più intensa rispetto al controllo negativo. Contrassegnare e contare ogni pozzetto marrone o torbido, facendo riferimento alla tabella MPN fornita con le piastre a pozzetti quanti 3 Legiolert. Per ottenere l'MPN per 100 millilitri, ricordarsi di moltiplicare l'MPN per 100 perché si sta usando un millilitro del campione originale. Il numero più probabile in questo esempio è 156,6 moltiplicato per un fattore di diluizione pari a 100 per ottenere 15.660 per 100 millilitri. Qualsiasi variazione di colorazione verso il marrone e o torbidità che sia più intensa rispetto al controllo negativo indica un risultato positivo alla legionella pneumofila. Ecco un esempio con pozzetti debolmente e fortemente positivi. Vi sono un totale di 6 pozzetti grandi e 24 pozzetti piccoli positivi. Se non si assicuri che il risultato sia positivo, confrontare il campione affiancandolo a un campione negativo noto. IDEX consiglia di eseguire una procedura di controllo qualità per ciascun lotto di test LegioLert. Tale procedura è reperibile nel foglio illustrativo LegioLert. Riassumendo, incubare i campioni d'acqua non potabile per 7 giorni a 37 gradi con mezzo grado di differenza. I campioni con una colorazione marrone e o torbidità più intensa rispetto al controllo negativo sono positivi alla legionella pneumofila. I campioni senza alcuna differenza di colorazione e o torbidità rispetto al controllo negativo sono negativi alla legionella pneumofila. I positivi osservati prima di 7 giorni e i negativi osservati dopo 7 giorni sono validi. Rispettare sempre le seguenti linee guida. Usare solo diluenti sterili. Consultare il foglio illustrativo per maggiori informazioni. Conservare il reagente LegioLert tra i 2 e 25 gradi centigradi lontano da luce diretta e umidità. Conservare il pretrattamento tra i 15 e i 20 gradi centigradi. E adottare sempre tecniche asettiche. Consigli da ricordare. Non è necessaria alcuna conferma. È possibile impilare fino a 10 piastre nell'incubatore. Collocare le piastre sempre con il lato di carta rivolto verso il basso nell'incubatore alternandone la direzione. Smaltire tutti i campioni e i materiali nel rispetto delle normative locali. In caso di domande o per altre informazioni, contattare gli esperti di microbiologia dell'acqua IDEX al numero visualizzato sullo schermo.